oggi vado a fare un giro di allenamento e faccio anche un video molto particolare che vuole rispondere alla domanda perché i ciclisti da strada non usano le ciclabili ho preso come ho disegnato una mappa che utilizza il più possibile ciclabili parte da villar basse sangano rivalta rivoli e torna indietro questa è la ciclostrada di villar basse questo è un pezzo condiviso con altre persone infatti comunico la mia presenza con il campanello ciclostrada si interrompe qui ma questa è una stradina secondaria quindi va benissimo come si sarà visto dal video questa ciclostrada e si è riservata in parte ai ciclisti però non è che sia proprio un velluto c'è un ponte di legno sconnesso ci sono dei mucchi di terra che adesso sono secchi quindi non danno problemi però quando sono umidi vi assicuro che sono scivolosi come una saponetta io ho una gravel perché ritengo che le strade italiane non siano adeguate alla pedalata e comunque a me piace anche andare fuori strada qui incrociamo via torai e ricomincia la ciclabile ciclo pedonale non è riservata qui primo ostacolo io con la mia brava grave esco di strada ma chiaramente un ciclista strada come fa secondo ostacolo un ponte di legno tutto sconnesso e poi ultima chicca la ciclabile diventa sterrata in realtà non è sterrata per molto ma se uno sta facendo un giro con una bici da corsa con le rotine da 22 alla fine andrà sulla statale e few moments later la ciclabile di via da basse corre lungo quello che era prima un marciapiede però almeno è protetta è asfaltata bisogna soltanto fare molta attenzione perché agli incroci così essendo molto rientrati le auto tendono a spuntare ora qui è fantastico secondo le mappe la ciclabile continua in avanti ed è vero ma finisce la invece si passa dietro nelle stradine secondarie si va verso il centro del paese onde evitare di passare nell'unica strettoia della strada condivisa con altre macchine scelgo di fare una piccola salitina che mi porta verso il comune di villar basse dove ricomincia la ciclabile e few moments later qui sulle mappe di comote segnato come percorso ciclabile ed è vero però è tutto porfido quindi è un porfido molto bello ci sono anche i due lastroni di pietra chiaro che uno si sta allenando invece la corsa ai 30 all'ora a meno che non si stia allenando per la parigi rubè non è molto invogliato a fare questo percorso senza contare che con un terzo del tempo passando lungo la provinciale quindi insieme alle macchine bypassa tutto questo zigzaggo questa è ancora una strada tranquilla non ci sono praticamente macchine ma cosa succederà laggiù e qui succede che avevo all'incrocio per sangano e l'unico modo per andare giù siamo in strada con le macchine qui non c'è l'unica soluzione e la convivenza per un breve tratto mi sto guardando indietro perché il mio obiettivo togliermi di qua come con questa altro pezzo di ciclabile che da sangano va a rivalta l'inizio non è dei più invoglianti vedete ci sono buche e sport meno male che la grave perdona questa qui la ciclabile che corre corre lungo sangone di questa in mountain bike in gravel perfetta però come vedete dalle radici che spuntano non è proprio percorso più adatto per andare in bici da corsa incrocio continuo qua indubbiamente è bellissima è un po sconnessa se uno vuole farsi il giretto per prendere il fresco o anche il giro un po più cattivo ma con copertoni grandi va bene ma guardate qui qui torna essere ciclostrada è molto pulita io qui prendo però una deviazione la prendo su asfalto così e continuo il mio giro se uno vuole fare un giro della natura un po gravellistico queste strade vanno benissimo ma la maggior parte dei ciclisti che non utilizzano le ciclabili sono ciclisti la strada con coperture veloci che normalmente tengono un'andatura di 30 40 all'ora guardate qui le radici le hanno di vetro assegnate anche qui ma il bello ve lo sicuro arriverà più avanti qui è il top diceva il percorso ciclo pedonale e poi diventa un marciapiede adesso incrocio un runner non posso andare forte anche se volessi perché sono su marciapiede invece un'uscita di un cancello sempre percorso ciclo pedonale in contramano peraltro in questa direzione dall'altra parte non c'è alternativa in questo momento non c'è nessuno posso anche andare un po più forte e qui il massimo avevo la lava industriale perché comunque sono in contramano praticamente e poi e poi e poi va di là sull'altra marciapiede rispettiamo la pista ciclabile e andiamo sul marciapiede e poi arriviamo qua questa è fantastica io qua io mi fermo scendo attraverso piedi perché abbiamo detto che oggi si fanno le ciclabili non andai mica a piedi fino a casa no non vado piedi fino a casa ma vado qui dove ricomincia la ciclabile perché questa non è ciclabile questo è ciclabile è abbastanza bella alcune parti sono un poste rovinate e poi ci sono gli attraversamenti così tirotti è chiaro io alla grave l'ho presa apposta per non dovermi preoccupare e perché della competizione non mi interessa però chiaramente non è utilizzabile per fare una corsa in bicicletta da corsa ecco là c'erano dei cancelletti qui è sempre ciclabile qui ce ne sono degli altri sì sì si passano ma l'idea è ciclista fermati perché ci sono le macchine quindi che ciclabile è la ciclabile in rivalta è molto carina protetta da questi sparti traffico e poi arrivi a queste rotonde così le persone gentili che ti lasciano passare ce ne sono sempre meno male continuo a sbagliare strada perché questa è la ciclabile e quello è il marciapiede cioè quindi il marciapiede è più liscio e bello della ciclabile e ogni rotonda tendo sempre andare di là e quindi non l'hanno più segnato dopo aver attraversato rivalta e ricomincia corona verde diventerà poi un percorso esclusivamente ciclabile per dare il benvenuto a questo pezzo di ciclabile c'era subito il ghiaietto qui poi però diventa completamente ciclabile e anche molto bella questa mi porterà in mezzo a Rivoli passiamo sotto la strada che congiunge Rivoli con veda basse e poi lì mi attacco vedrete perché la soluzione più safe che ho trovato è questa arrivo a questo semaforo mi fermo e poi svolto qui a sinistra che il problema lì è che si arriva in contramano sempre con l'obiettivo di tornare a casa senza fare infrazioni e usando le ciclabili devo passare da queste stradine qui ma a un certo punto non potrò fare altro che usare la provinciale ho fatto tutte le strade secondarie che potevo ma qui non c'è alternativa devo prendere accodarmi al traffico e scendere fino alla zona industriale di veda basse un'alternativa ci sarebbe molto gravellosa ossia salire fino al castello e poi scendere ma visto che lo scopo del video è piegare perché i ciclisti da strada difficilmente usano le ciclabili e insula la possibilità di andare a fare uno sterrato vero è vero che questo è un pezzo molto breve odio girare su strade trafficate fortunatamente qui posso prendere questa viuzza che mi riporta alla mia ciclostrada punto da cui sono partito tirando le somme troppo ci sono determinate strade che non si possono evitare con le ciclabili altre che sarebbero evitabili ma che assolutamente non sono date alla performance questa è performance e per ultimo ci sono delle strade che avrebbero assolutamente bisogno di una ciclabile per evitare di essere in mezzo al traffico detto questo se il video vi è piaciuto mettete mi piace se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e alla prossima